Un nuovo discorso pubblico, una nuova narrazione su queste tematiche. Il progetto Parti Oresti è un progetto che è già entrato nelle scuole dallo scorso anno scolastico, quindi abbiamo incontrato più di 450 studenti nelle scuole secondarie superiori di Pesaro principalmente e anche una classe a Fano. L'obiettivo è quello di far sì che le persone, le giovani, i giovani cittadini che frequentano le scuole possano avere maggiori informazioni rispetto a quali sono le scelte che determinano che una persona della loro stessa età o un'altra latitudine si trovi costretta ad affrontare un viaggio terrificante come quello della rotta libica o della rotta balcanica fino ad arrivare in Italia. Per farlo, senza andare troppo con la teoria, ci siamo inventati un gioco di ruolo. Nel gioco di ruolo la classe, cioè chi partecipa, si mette nei panni di, quindi in questo caso di un migrante e attraverso delle scelte alle quali la classe è chiamata a rispondere, si aprono o si chiudono determinati scenari che portano allo step successivo. In questo modo, senza andare tanto di spiegazioni teoriche, le persone, i ragazzi, capiscono in maniera molto semplice, molto diretta, quali sono questi scenari nei quali si muovono i loro coetanei e altre latitudini e che cosa determina la scelta di fare dei viaggi e di arrivare fino all'Italia. In questo modo si auspica che la popolazione giovanile possa ricevere una maggiore sensibilizzazione delle informazioni rispetto a questo fenomeno che impatta sul nostro territorio e che ci impone di fare delle riflessioni accurate con la popolazione giovanile che è la cittadinanza di oggi e di domani. È stata una bella esperienza quella di Medesimaxi, un'indica.